Allora, mi piace molto accogliere questa ospite all'interno appunto dello spazio relativo a Gio di Sarno perché parliamo appunto di solidarietà, lo facciamo con un personaggio importante per quanto riguarda il nostro paese perché Patrizia Medigliani, ancorché il di lei padre, hanno tracciato un solco con Miss Italia che ha dato una possibilità di sviluppo a tanta, tantissima gente nel modo migliore, nel modo più corretto, nel modo più professionale dunque è un patrimonio, ecco perché mi piace parlare di questo galà della solidarietà con lei e accoglierla con un grande abbraccio Patrizia Medigliani, buongiorno Buongiorno Allora, in studio con me c'è Gio di Sarno Buongiorno Buongiorno E parliamo del galà della solidarietà, Patrizia è un evento importante, un cuore per tutti, tutti per un cuore Sì, è un galà a cui il concorso Miss Italia partecipa da anni mandiamo sempre la nostra Miss come testimonial anche perché abbiamo un rapporto particolare con Ivo Pulcini che è anche un amico di famiglia insomma, ci fa piacere dare il nostro sostegno e poi siamo sempre presenti perché tutto quello che riguarda la solidarietà ci tocca profondamente La finalità di Un Cuore per Tutti e Tutti per un Cuore è quella di aiutare poi chi, Patrizia? Di aiutare i bambini Siamo molto sensibili al tema dei bambini che hanno problematiche, che vivono fuori dall'Italia è una cosa molto bella È una serata nella quale vedranno partecipi e protagonisti personaggi dello spettacolo e della televisione è tra i più brillanti, per esempio Fabrizio Frizzi la presenterà, giusto? Sì, insieme a Franco Di Mare Ecco, e poi ci saranno anche attori tipo Philippe Leroy, cantanti Sergio Camariere belle donne quali Danny Mendez e insomma c'è tanta tantissima bella gente a questa serata, no? Sì, è un evento molto atteso proprio perché è un evento anche mondano Infatti, no? Se vogliamo dire, certo c'è anche l'aspetto insomma, tanta gente dello spettacolo che partecipa Devo dire che la gente dello spettacolo sempre più è proprio sensibile a questi temi specialmente il discorso dei bambini che sono il nostro futuro, che vanno protetti e aiutati Quindi, e poi noi siamo, sa, quest'anno abbiamo con il nostro calendario Donne che vincono Sì E' portato avanti sempre un tema legato più che alla solidarietà, così Tocchiamo un tema sociale per far capire alle donne che lavorano, che devono essere sicure sul posto di lavoro, sul loro posto di lavoro, per eventuali infortuni che possono succedere E devo dire che è un calendario che ha avuto un grande successo, in un momento sociale come Questo, poter parlare, ecco, proprio di temi importanti, di temi seri, toccare il mondo delle donne e quello dei bambini, perché poi le donne hanno questa facoltà di procreare che non è poco Vabbè, direi tutto, no? Direi tutto Esatto Insomma, il nostro futuro è questo, sicuramente Va bene, allora il tutto si terrà presso l'hotel Sheraton Per me è stato anche un motivo per poterti augurare, Patrizia, tutto il bene possibile in quest'anno, ma molto oltre anche per il resto del nostro vivere, perché tu lo meriti per quella bella persona che sei Grazie, grazie, veramente di cuore e a presto Un abbraccio alla nostra Patrizia Mirigliani e alla Galà della Solidarietà